L'oroscopo è offerto da Centro Revisioni Florio Calandra Benvenuti anche oggi al vostro oroscopo su Fille Ruggi TV Ariete, oggi dovrai trascurare i bisogni degli altri e dedicarti un po' a te stesso Esternate pure ogni vostro pensiero, senza troppi problemi Sappiate cogliere tutte le occasioni che vi vengono offerte Molti riceveranno un messaggio gradito o un invito interessante Ma attenzioni, occhi sempre aperti Toro, contate fino a 10 prima di esprimere ogni vostro punto di vista sull'operato degli altri Non esagerate con le critiche Sul lavoro non fatevi prendere dall'entusiasmo sui risultati ottenuti Occorre ancora molto impegno Prima dovete esaudire tutte le richieste fatte Festeggerete dopo Gemelli, non avete proprio voglia di impegnarvi in una storia duratura Meglio vivere una passione fugace senza mettere radici Ma fate attenzione a chi avete di fronte Potrebbe sparire da un momento all'altro senza troppe spiegazioni Di contro le stelle favoliscono nuove conoscenze e nuove amicizie Cancro Sul lavoro mostratevi più sicuri Proponi le tue idee con convinzione Sicuramente riuscirai a convincere tutti Dovete iniziare a fare un po' di economia Date un taglio a tutte quelle spese superfle A tavola eliminate cibi grassi e fritture Tranquilli, si prevede una bellissima serata in compagnia di una rete o di una bilancia All'insegna di tante risate Leone, non cercate di forzare la mano su una situazione che vi preme Non servirebbe a niente, non sempre si può avere tutto Un amico in difficoltà vi chiederà un piccolo aiuto Non negateglielo, fatelo in maniera del tutto disinteressata Presto verrete ricompensati Vergine Spesso il vostro atteggiamento viene frainteso A volte apparite un po' duri e scontrosi Dovrete iniziare a dosare parole e tono di voce Non affidatevi a persone che, sapete già, non manterranno le promesse fatte Contate soltanto su voi stessi I single avranno a che fare con individui dall'atteggiamento un po' ambiguo Occhi aperti Bilancia Giornata problematica e a tratti nervosa Lasciati fuori dalla porta coloro che cercheranno di provocarvi in qualsiasi modo Perché solo da tanto tempo i corteggiatori di certo non vi mancano Anche se quelli sinceri sono molto meno Oggi sarete tentati dallo shopping Ma non esagerate Scorpione C'è qualcuno che attende le vostre confidenze per rubarvi qualche idea in ambito lavorativo Occhio a chi cerca di adularvi Potrebbe farlo soltanto al fine di dannergiarvi In amore non siate precipitosi Valutate ogni situazione prima di prendere decisioni drastiche senza possibilità di ritorno Sagittario Sempre pronti a lottare per ciò che desiderate C'è qualcuno che vi pensa tantissimo Sta cercando la possibilità di un ritorno da voi Ma non ha il coraggio Vorrebbe riconquistare la vostra fiducia Ma voi non apparite così tanto convinti Date almeno la possibilità di un chiarimento Potreste cambiare idea Capricorno Se qualcosa non andrà per il verso giusto Ho come l'impressione che sarà soprattutto per colpa vostra Ma siete in tempo per recuperare Se avete un amore segreto Fate molta attenzione a non alimentare chiacchiere inutili Gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo Acquario Eccellente intesa con un gemelli Vi sentite sereni e rilassati In coppia invece avrete da ridire su alcuni atteggiamenti che proprio non tollerate Non siate troppo permissivi Vi si potrebbe ritorcere contro Spiegate invece con calma le vostre idee e soprattutto i vostri dubbi Pesci Piccola vita in famiglia con una persona più grande di voi Anche un vostro amico avrà un atteggiamento strano nei vostri confronti Se qualcuno cerca di distogliervi da una conoscenza recente Non dategli in retta Approfondite il vostro interesse Siete perfettamente in grado di decidere da soli Anche per oggi è tutto con il vostro oroscopo su PhilRuggeTV Grazie a tutti Grazie a tutti